Stasera c'è anche un ospite famoso Rapper! Senti, ma sei Gianluca? Cosa? Eh beh, sì, è abbastanza C'è che altrimenti... Gianluca! Si sente in after hour? Si può stancare un po' troppo Io oggi sono proprio stanco E dai, e annabò Sì, le nove di sera Ciao, direi Ti scusami, camera Ciao, direi! Ciao, direi!